Ciao a tutti da Saludatore, eccomi qui mi trovo con Andrea Ripa di Meana che ha un grande messaggio, ci troviamo qui davanti alla Galleria Pandolfini perché ci saranno esposti i gioielli di Marina che aveva Lucrezia e Lucrezia li mette all'asta per poche centinaia di euro. E' una cosa obropriosa, Marina non l'avrebbe mai fatto anche perché se le aveva tenuti da parte per tramandarli da figlia a figlia, nipoti e figli dei nipoti, non è possibile questa cosa, Marina non l'avrebbe voluto e non l'avrebbe fatto, quindi io sono qui a protestare. Ecco vedo che sei con la catena, poi adesso arrivano i cartelli, sarò qui a protestare fino a stasera. Allora cosa vuoi dire a Lucrezia che ti sta vedendo? Che deve ritornare sui suoi passi, cara Lucrezia ti prego ritorna sui tuoi passi, non vendere queste gioie che sono ricordi di tua madre negli anni e tu invece li vuoi vendere, ripensaci perché è come fare un altro sgarro a tua madre, come quello delle ceneri, ti prego Lucrezia ripensaci. Io ti ringrazio di questo piazzaggio e anche Barbara Duzzo ha preso a cuore questa situazione, ci sarà una diretta verso le 6. Ecco cosa dirai a Barbara? Le stesse cose che sono qui a difendere la memoria di Marina. Lei sicuramente ti aiuterà col cuore, Marina e anche Barbara ovviamente che è sensibile a questi temi, perciò il tuo messaggio l'abbiamo mandato a Lucrezia, noi ci auguriamo tutti quanti che accorgano questo tuo messaggio di grande cuore alla tua mamma e anche ricordo del tuo grande papà. E anche lì poi c'è una storia dietro che devo verificare bene e poi a tempo debito vi dirò. Ecco, allora io intanto, essendo salutatore, ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan, a tutti i fan di tua madre e di tuo padre. Li salutiamo? Li salutiamo tutti quanti. Ecco, ciao. Ciao ragazzi, mi raccomando, in gamba. Ecco. E qualsiasi cosa che non vi sta bene, protestate sempre pacificamente. Ecco, pacificamente è la cosa importante e migliore. E io ti regalo la manina del salutatore per salutare tutti quanti. E facciamo un saluto speciale anche a Barbara D'Urso. Ciao Barbara. Ciao Barbara, ciao.